Uedì, registrazione 6 marzo, Maria De ritorna alla conduzione, Federico sceglie. Riparte l'appuntamento con uomini e donne, questo lunedì 6 marzo 2023, è in programma una nuova registrazione del fortunatissimo dating show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi. Dopo lo stop dovuto alla morte di Maurizio Costanzo, la programmazione televisiva del talk show tornerà alla normalità e riprenderanno anche le riprese di questa fortunatissima edizione che volge ormai verso le battute conclusive. Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione televisiva di uomini e donne rivelano che il prossimo lunedì 6 marzo riprenderà la messa in onda su Canale 5. Come sempre nella fascia oraria che va dalle 14.45 alle 16.05. Al tempo stesso, nel corso del pomeriggio di lunedì, ripartirà anche l'appuntamento con dei team di Amici 22, che sarà trasmesso nella fascia oraria che va dalle 16.05 alle 16.45 e circa. Nella giornata del 6 marzo riprenderanno anche le riprese del talk show dei sentimenti, nel pomeriggio. Infatti, è prevista una nuova registrazione che si preannuncia già attessissima dai numerosi fan. La registrazione del 6 marzo, infatti, sarà quella dedicata alla scelta finale del tronista Federico Nicotera. Tra i volti più amati di questa edizione del talk show pomeridiano di Canale 5. Dopo un percorso lungo ben sei mesi, per Federico arriverà il momento di congedarsi dalla trasmissione e svelare il nome della ragazza con la quale intende costruire il suo futuro lontano dai riflettori mediatici del talk show Mediaset. Alice e Carola sono le due pretendenti che, tra alti e bassi, sono riuscite ad approdare al rush conclusivo del tronista e adesso attendono con trepidazione di scoprire chi sarà la sua scelta finale. In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Federico, la registrazione di uomini e donne del prossimo 6 marzo si preannuncia a Tessissima anche per il ritorno alla conduzione di Maria De Filippi. In questi giorni sono trappelate sul web e sui social delle indiscrezioni fa che legate ad prolungato stop per la conduttrice dopo il lutto che l'ha colpita. Maria De Filippi tornerà alla conduzione già il prossimo venerdì 3 marzo, quando si registrerà l'ultima puntata del pomeridiano di Amici 22. Successivamente, poi, ripartiranno le riprese di uomini e donne, di cui questa settimana sono previste due registrazioni nelle giornate del 6 e 7 marzo. con la clipi è di lavoro